il 18 per prendere sta palla e perderla e perderla poi c'è una grinta ma non riesce a capire niente però non è un mieterio, se gliela faceva giocare, gliela sta facendo giocare quando si metta la pace, sape la pace, non puoi Grazie a tutti L'ha annullata L'ha batta in veloce, vedi che l'ha batta in veloce Dai che abbiamo guadagnato un po' di metri Bravo bello Orca miseria Andava a tornare Aiutatelo Bravo L'ha intretettato a Marco L'ha intretto a punto Sperto a punto Sperto a punto Sperto a punto Sperto a punto Vediamo adesso l'esercizio appena studiato. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.